Via Macario, esattamente sono le ore 13.40. Sto per rientrare a casa e tutta una volta incontro questo donbino da dove sgorga fuori un nauseobondo odore di fognatura. Praticamente un donbino da dove sta uscendo di tutto e di più. Tra un po' possibilmente scoppia. Qualcosa di orribile. Nel frattempo la gente cerca di deviare. Io non capisco cosa stia succedendo in una zona nuova, una zona come quella dei pianeti dove tutto dovrebbe funzionare a meraviglia e invece nell'anno 2016 troviamo ancora... scusate ma la puzza è veramente troppo. Troviamo questo schifo. Non so se è stato già segnalato. Spero che qualcuno, anzi ora mi prodicherò avvisare i vigili urbani perché veramente c'è troppa troppa puzza. Spero che intervengano quanto prima. la situazione non è delle migliori. L'amministrazione dorme. Povera signorina che è passata con la moto. Vabbè, speriamo che risolvano subito questo problema.